Il gioco dei ruoli I want more sexy 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 Pronto? Amo, oggi è lunedì Il giorno del nostro giochetto erotico Il gioco dei ruoli Saremo altre persone Sì, amore, io ci pensavo da stamattina E proprio questo volevo dirti Volevo dirti che io ho un rivido lungo la schiena Un formio cocleo costante E una sensazione di cedimento È la fiamma della passione No, è l'infiammazione asciatica, amore Possiamo rimandare No, che rimandare? Allora facciamo così La settimana prossima Facciamo così, già mi sono preparato Allora, io sarò una dottoressa tedesca E tu sarai un mio paziente Un malato di sesso che viene da me Per essere curato Capito? Puoi essere un po' come io Un po' come padre Pio Stasera succede un miracolo Va bene? Speriamo che la dottoressa ortopedica Ciao, ciao Aspetta qua Devi andare nella patta Eh? Come si mette qua? Eh? Eh? La dottoressa Ketrud di Germania Io avevo avuto tanti pazienti oggi Adesso aspettare ultimo Occhio un guaiato Lui è essere un malato di sesso Pensate sempre sesso Pensate sempre sesso Pensate sempre sesso Vuoi vedere che adesso viene da me E vuole sfogare su di me? E speriamo Chi è? Arrivato il coperno di età Mi arriva? Ah Sto peggiorando Questa sera non fa niente Nemmeno padre Pio Aspetta Ah, già fuori Siete? Io essere dottoressa Ketrud di Germania Tu essere mio paziente E' malata di sesso E adesso farete alcune domande Perché tu avrai grave patologia Ah Dottore la mia patologia Che patologia? Io praticamente Verso la sesta La settima Ah Farei sesso Sette volte No? No, verso la sesta La settima vertebra Tengo schiacciamento E subito mi fai Tutto l'ora Asciato Ma quelle sei sette vertebra E' spazio Ci lo ammo benzie Oh no Ma sech pensavo soli In der vertebra Esci mi da Rescivon Voi esci mi da Tu hai chiesto malata Disse da Porta Schadiga Tu hai chiesto malata Disse Cosa fai tu? Ah eh no, dottore Io so freddo Ah che fai? Allora io so talmente freddo Che quando puo Vado da mia muccia Sapete che faccio Una prima fase La posseggo tutta la notte Ma chi? Questo è fatto fin da In una seconda fase E mi riposo Amore Mi ricordo sulla seconda fase La prima Proprio non la tengo Proprio in memoria Ah 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 Ya 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 Quante volte Possedere in una settimana Tua mogia? Dottore Io a mia mogia La posseggo Sette otto volte A settimana Ah 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 Amore già Tre Agure Eh Bona anche due Amore Vabbè io a scrivere uno per incoraggiamento Sento! E dove possedere tua moglie quando salirei sanguabattaca? Dottore, io dove stai la posseggo perché sono fudente, sono troppo fudente, come si chiama? Sanguabattaca! Ah, sanguabattaca! Così si dice in tedesca, sanguabattaca! Io la posseggo, sapete dove la posseggo? Ah, in ascensura! Dottore, io la posseggo... Ah, ma sulla lavatrice! Dottore, la posseggo... Ah, mentre cucina! Ma quante cucine che la dottore non ha mai cucinato? Io la posseggo! Ah! Vada calmato, dottore, vi dovete calmare! Allora, io, e ve lo so dicendo, se non mi fate finire di parlare, io qua... Ah, fudente! Sono troppo fudente! E allora sapete che faccio? Dove, dove? Soltamente fudente! Che io la posseggo sopra il letto! Ma va a fare un culo, è meglio che tu stai zitto! Ah! Io avrei qua due analisi! Avrei qua due analisi perché tu sei molto malata! Ah, ma questa analisi vera è mia! Ah, ah! Ah, ah! Ma non puoi, non puoi! Non puoi! Colesterolo, eh? No, no, colesterolo, no! Testosterona! Ormone di sesso! E come si ha messo questo momento? A te? A meno tre! Sotto, amore! Sotto! Sai a te! Dottore! Ah, è grave, è grave! È grave! È assai grave! È grave! Ma muoio! E speriamo, speriamo! E speriamo che muoio di lunedì così sotto una volta che dovete... Ma non preoccupare! Non preoccupare! Io adesso a fare cura! Ah? Fare cura per te! Ma ti affanculo? Non fai... No! No! Cura! 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 Ah, un pillo! No! Serenca! Cacciate il tuo culo! Amore, quelle fanno... Cacciate il culetto! Però quelle bisogna saperle fare, eh? No, non preoccupare! Non mi hai fatto, ma proviamo adesso! E provi sopra me! Dovcio a me! Cacciate il culetto! Non devo fare niente! Aspetta! Vai! 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 Aspetta, aspetta! Mi hai tirato un po' con l'aria! Ma che era la macchina? Ma... Che? Che? E fai preparato l'acqua ossigenata? No! Ho trovato un po' d'acqua raggi! Non ti preoccupare! Questo è un ormone di sesso! Ah! Una volta a fare questo tu fai tanto sesso! Ah! Pure 7, 8 volte! No, amore, fai che lì c'ho solo un lavaggio! Faccia mia! Hans! Va! Aspetta, aspetta! Hans! Va! Tran! Ah! Ah! Amma mia, amore, ma dove l'hai messa? Oh, mamma mia, amore, non lo trovi giù! Amore! Amore! Amore, non lo trovo più di là! Ma dobbiamo andare solo all'ospedale, amore! Ma sei scema! Quale ospedale si può fare effetto! No, no, dobbiamo approfittare! Ah, non so, non ci sono scema! Amore! 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 Aspetta!